salve a tutti e benvenuti sui creativi channel in questo nuovo video che ho deciso di dedicare a un profumo buonissimo messo in commercio da lidl nel 2000 che si chiama suddenly madame glamour suddenly è la marca che infatti fa anche altri profumi tipo aura joly woman one e madame glamour è il nome del profumo questo profumo dovrebbe essere il dupe di coco mademoiselle di chanel vi dico dovrebbe perché suddenly madame glamour è uscito sul mercato nel 2000 coco mademoiselle è uscito sul mercato nel 2001 quindi mi viene anche la domanda quale sia il dupe di quale io sinceramente penso che le due marche abbiano creato questi due profumi senza sapere dell'esistenza dell'altro profumo poi fatemi sapere cosa cosa ne pensate nei commenti così vediamo anche altre idee allora madame glamour è un profumo di categoria cipriato floreale la boccetta contiene 50 ml di prodotto è un profumo molto dolce molto femminile e molto economico nel senso costa 4 euro e 99 rispetto a 91 euro di coco mademoiselle sempre 50 ml e de parfum ma dal resto si sa che chanel è un profumo molto caro ed è difficilissimo trovarlo in offerta molte marche tipo armani lancome solitamente su su internet si trovano delle offerte molto convenienti di quelle le marche chanel non si trovano praticamente da nessuna parte l'unica offerta più o meno conveniente che ho trovato era sul sito online di daglas che si poteva acquistare solo online perché in profumeria non ce l'avevano ed era l'eau de toilette e non l'eau de parfum infatti adesso vi elencherò un pochino di prezzi che ho trovato su internet dal sito di chanel e dal sito di daglas allora sul sito di chanel l'eau de parfum costa 66 euro il 35 ml 91 euro il 50 ml 125 euro il 100 ml e 206 euro il 200 ml vi faccio notare che è conveniente comprare la boccetta con tanti ml perché il rapporto quantità prezzo conviene più che comprarsi le boccette con meno quantità dentro perché se noi pensiamo che con 206 euro prendo la boccetta da 200 ml dovrei con 50 ml pagare più o meno 52 euro 51 euro virgola qualcosa e invece ne pago 91 e non 50 quindi quindi conviene comprare la boccetta grossa sempre sul sito di chanel invece l'eau de toilette costa 76 euro il 50 ml 106 euro il 100 ml purtroppo dell'eau de toilette ci sono solo le versioni da 50 ml e da 100 ml quelle da 200 ml e quella da 35 ml non si trovano sul sito di daglas l'eau de parfum non conviene tanto comprarlo perché costa addirittura 95 centesimi in più che comprarlo dal sito di chanel l'eau de toilette invece conviene perché costa 71 euro invece che 76 il 50 ml e 100 euro virgola 0,05 centesimi il 100 ml invece che 106 euro allora parliamo dell'estetica della boccetta purtroppo non ho una boccetta di chanel da mettervi di fianco per fare il paragone perché non sono ancora riuscita a comprarlo però per farvi il paragone con la fragranza per fortuna ho un flaconcino che mi avevano dato di Coco Mademoiselle e Eau de Parfum che mi avevano regalato in profumeria come omaggio quando ho acquistato un altro profumo quindi diciamo che per darvi un giudizio ho proprio annusato i due profumi quindi vi posso dire secondo me cosa cambia comunque la boccetta di Madame Glamour si stende in verticale cioè in altezza diciamo diciamo ha una specie di forma un po' a goccia non assomiglia molto alla boccetta di Coco Mademoiselle assomiglia un pochino alla boccetta di si di Coco Mademoiselle ma del profumo per capelli non Eau de Parfum classico allora la boccetta dell'Eau de Parfum di Coco Mademoiselle è sul rettangolare si stende anche anch'essa in verticale e ha un tappo fatto tipo gioiello in cristallo infatti le boccette di Chanel sono molto pregiate se uno prova a cercare su internet si trovano in vendita vuote a 25 euro sono veramente care anche le boccette l'Eau de Toilette ha una boccetta sempre di vetro però con un tappo di mi sembra plastica bianco poi ci sono le varie varie cose tipo creme che non ho guardato molto l'estetica mi ricordo che ho guardato appunto l'estetica di questo profumo per capelli che aveva i colori che ricordavano molto la boccetta di Madame Glamour comunque adesso parliamo un pochino delle note di Coco Mademoiselle e un pochino anche del profumo che come avevo detto prima è uscito sul mercato nel 2001 con la pubblicità di Keira Knightley che praticamente lei si spruzzava un po' di profumo addosso e tutti gli uomini impazzivano gli andavano dietro comunque le note di di testa di Coco Mademoiselle sono bargamotto mandarino arancia e fiori d'arancia le note di cuore sono gelsomino rosa turca mimosa e lang lang le note di coda sono vetiver muschio bianco paciuli vaniglia e fava di tonca le note di Madame Glamour sono quasi identiche c'è qualche piccola variazione nel senso che la rosa c'è scritto solo rosa e non rosa turca e il muschio c'è scritto solo muschio e non muschio bianco e poi mancano la mimosa e il mandarino però adesso ve le vado a leggere tutte allora le note di Madame Glamour sono paciuli arancia bergamotto gelsomino fiore d'arancia francese muschio vaniglia lang lang rosa vetiver e fava di tonca allora come prima cosa voglio dire che i due profumi hanno una durata veramente persistente Madame Glamour spruzzato sulla mia pelle dura dalle 6 alle 7 ore e Coco Mademoiselle dura dalle 8 alle 9 ore quindi due ore in più spruzzata sui capelli entrambi i profumi durano 24 ore e durano 24 ore spruzzato i suoi vestiti quando ho spruzzato i due profumi per vedere se effettivamente si assomigliavano ho notato che sono quasi identici si sente solo la mancanza della mimosa in Madame Glamour cioè si sente solo quella nota lì però si sente se uno prima di tutto bisogna avere il naso per sentirla e bisogna farci molta attenzione non credo che qualcuno che non usa spesso Coco Mademoiselle possa capire la differenza cioè possa identificare il falso dall'originale credo che però se una persona abituata a usare sempre Coco Mademoiselle Mademoiselle se usa Madame Glamour potrebbe anche rendersi conto che c'è una differenza però appunto è una differenza talmente lieve che a me non interessa se c'è ci sono certe persone a cui dispiace non sentire questa nota appunto della mimosa che manca infatti preferiscono l'originale perché vabbè ha una durata maggiore rispetto a Madame Glamour anche se appunto di poche ore quindi due tre ore sulla pelle sui vestiti e sui capelli è uguale secondo loro ha un'altra qualità però io vi dico veramente Madame Glamour è quasi identico a Coco Chanel vi consiglio assolutissimamente di andare a provare questo profumo da Lidl anche e soprattutto per il prezzo che ha magari fateci un pensierino perché conviene veramente tanto e ha un aroma fantastico molto molto simile a Coco Chanel spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettetemi un like che mi fa veramente veramente piacere e iscrivetevi al canale se siete interessati a vedere i miei prossimi video io vi auguro una buona giornata e vi lascio un grandissimo saluto e ci vediamo al mio prossimo video ciao 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 ciao